Nokia Lumia 735 è uno smartphone che va a coprire la fascia media del mercato. A livello di design ritroviamo lo stile colorato e minimal che contraddistingue i terminali Lumia, con assemblaggio di ottima fattura e materiale di qualità. Internamente la scocca integra la componentistica necessaria per la ricarica wireless. La scheda tecnica mostra un'adattazione hardware piuttosto bilanciata, processore Snapdragon 400 da 1.2 GHz, 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna espandibile con schede microSD fino alla capacità di 128 GB. Sul fronte della connettività troviamo invece il modulo LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ed NFC. Il display è uno degli elementi più importanti di questo device. È un OLED da 4,7 pollici con risoluzione HD ed una qualità davvero ottima per un terminale di fascia media. Il livello di densità di pixel è pari a 312 ppi, il che la dice lunga, infatti per fare un confronto il nuovo display retina di iPhone 6 con schermo da 4,7 pollici ha un valore di poco superiore, con 326 ppi. Lumia 735 monta l'ultima versione del sistema operativo Microsoft, ossia Windows Phone 8.1. Naturalmente ritroverete la stessa medesima versione montata sui top di gamma. Il sistema è rapido e scattante, merito soprattutto della dotazione più ampia di memoria RAM. Diverse le app preinstallate su questo Lumia 735. Naturalmente Office per migliorare la produttività lavorativa, ma anche le applicazioni Here ed anche il servizio di musica in streaming Mix Radio, che vi consentirà di ascoltare i vostri artisti preferiti senza interruzioni per il massimo svago. Lumia 735 è ben dotato nel comparto fotografico. Oltre alla cam principale da 6,7 megapixel troviamo una cam anteriore da ben 5 megapixel, che caratterizza il prodotto come uno smartphone votato ai selfie. La cam anteriore viene valorizzata dal software esclusivo Lumia Selfie, che permette di applicare numerosi effetti alle foto. Le prestazioni fotografiche sono molto buone, merito soprattutto dell'app completissima, che di sicuro è uno dei punti di forza dei Lumia di questo 2014. Lumia 735 è un ottimo smartphone, molto bilanciato dal punto di vista hardware, di sicuro un ottimo acquisto per chi vuole un dispositivo completo senza spendere una fortuna.